ok vediamo se ci siamo ok come sempre il buon Beppe è online vediamo un po' ciao Beppe in attesa che vivino anche le altre persone io come al solito chiedo sempre se se l'audio è buono audio e video sono ottimali vediamo un po' ottimo ciao Viviana ciao Fabio un attimo solo ok perfetto ok allora in attesa che arrivino in attesa che arrivino gli altri intanto voglio ringraziarvi per stasera per essere qui presenti e voglio anche ringraziarvi per gli ottimi risultati che sta avendo il mio secondo libro il Cristi Legittimo perché per chi mi segue sulla pagina insomma per chi mi segue ovunque come potete ben vedere il Cristi Legittimo è sempre alto nelle classifiche soprattutto nelle classifiche Amazon per alcuni giorni è stato anche il più venduto della sua della sua categoria quindi il ringraziamento ciao Arianna il ringraziamento va ovviamente a tutti quanti voi e ovviamente la serata di la serata di oggi verte soprattutto sul Cristi Legittimo però come al solito grazie Beppe per la condivisione sempre gentilissimo e come al solito però ovviamente se avete ciao Enzo se avete le domande in merito sempre ovviamente inerenti all'argomento trattato io non amo fare monologhi come ben sapete quindi comincio un pochino con i miei sproloqui iniziali 10-15 minuti e dopo partiamo con le domande a raffica e da lì poi possiamo fare una una ricca discussione e rapidamente come lo che dico sempre in questi in questi mesi oramai di promozione anche del libro il Cristi Legittimo edito da un editorico alla gentilissima prefazione di Mauro Biglino vuole entrare più nel merito della storicità di Gesù mi spiego meglio non entro nel merito del dibattito sulla storicità o meno del Gesù storico come ben sapete io sono fra quelli che considero ovviamente il che considera Gesù realmente esistito ovviamente facendo una netta distinzione fra il Gesù storico e il Gesù della resurrezione è professato da Paolo anche nel mio primo libro il Cristianesimo invenzione di San Paolo avete potuto ben notare come ho fatto una netta distinzione fra i due personaggi e parto dal concetto che bisogna riflettere esattamente sul Gesù essere umano se si vuole ovviamente parlare anche di storicità e mi rifaccio soprattutto ad un articolo che ho pubblicato sul gruppo che è riflessione laica su Gesù che più che un articolo l'ho presentato come uno spunto di riflessione come un mio pensiero semplice e cioè vogliamo cominciare a discutere sul Gesù essere umano? ok non possiamo però partire dai Vangeli questa cosa può sembrare paradossale ma allo stesso tempo a mio modestissimo parere per una ricerca storica seria è fondamentale perché non si può partire dai Vangeli per cominciare a comprendere il Gesù storico sia perché ovviamente i Vangeli hanno subito nel corso sia del primo secolo ma nel corso dei secoli successivi tante interpretazioni reinterpretazioni rimaneggiamenti la diversità dei codici presenti è una dimostrazione considerato che lo scritto diciamo così lo scritto più antico il codice che contiene tutti i Vangeli completi più antichi i frammenti sono risalenti al IV secolo quindi sono molto tardivi se pensiamo quindi al gap di tempo e i frammenti che noi invece possediamo c'è Angioletta i frammenti che noi possediamo il più antico frammento che possediamo che è il frammento del Vangeli di Giovanni è risalente alla metà del II secolo però ovviamente parliamo di frammenti e poi successivamente parliamo soltanto di rifacimenti ma parliamo anche di citazioni che fanno indiretti i Padri della Chiesa a partire da Giustino quindi capite che partire dai Vangeli per cominciare a concepire il Gesù storico è abbastanza difficile anche perché il Gesù che è presente all'interno dei Vangeli oltre a essere un Gesù già parzialmente costruito a livello teologico è un Gesù che anche se presso nella sua umanità è un Gesù già con una sua forma mentis è già un Gesù completo è già un Gesù formato che ha già delle aspettative che non vede l'ora di mettere in pratica di diciamo così di farle scontrare anche con la realtà del tempo quindi se non sono i Vangeli il punto di partenza per concepire il Gesù essere umano da cosa possiamo partire? possiamo partire dal contesto storico il contesto storico è estremamente importante come ho sempre detto ed è una cosa che ribadisco fortissimamente nel mio secondo libro soprattutto dedicando ben due capitoli alla descrizione del contesto storico e partendo da questo arrivo a dire ovviamente che la conoscenza del contesto storico è fortemente importante per la comprensione del Gesù storico e della sua mentalità mi spiego meglio come dico sempre perché noi quando leggiamo i Vangeli ovviamente li leggiamo in maniera molto molto neutrale non concepiamo non riusciamo a comprendere determinati fattori determinati punti in questo caso per esempio cosa significa attesa messianica cosa significa l'attesa di un messia ebraico che significa la fine dei tempi che significa figlio dell'uomo cioè sono tanti concetti che ovviamente se letti scusate se letti in maniera molto acritica sono concetti e termini che possono anche non significare nulla e perché possono non significare nulla perché non abbiamo purtroppo la conoscenza esatta del contesto storico di riferimento il contesto storico di riferimento è ben caratterizzato a mio modestissimo parere da due elementi specifici che sono alla base dell'identità ebraica che metto ovviamente anche il risalto nel nuovo libro e cioè la circoncisione e la legge mosaica per chi ha seguito ieri la diretta che ho fatto e qui ringrazio Giuseppe Tamo e Andrea Di Lenardo di Eterne Verità Channel ho espresso proprio questo concetto cioè nel senso dall'esilio babilonese in poi per gli ebrei soprattutto per gli ebrei intransigenti che non volevano ovviamente macchiarsi di quella tradizione ellenistica che sempre più in maniera imperante stava coinvolgendo e stava anche avvolgendo tutto il mondo conosciuto quello conquistato fondamentalmente da Alessandro Magno e che quindi stava piano piano stava eliminando quella identità diciamo così dei popoli perché la tradizione ellenistica si stava diciamo così rivolgendo ai popoli come il primo vero il proprio fenomeno di globalizzazione della storia dei ricordi e ovviamente per il popolo ebraico che stava uscendo che era uscito dalla prigione in Babilonia che quindi stava ricercando un'identità visto anche il fatto che il proprio Dio Yahweh era scomparso dalla scena come si poteva quindi conciliare come si poteva radicare effettivamente l'identità ebraica attraverso due fattori c'è la circoncisione e la legge mosaica questa cosa sempre di più si è radicata all'interno della mentalità ebraica fino ad arrivare ai tempi di Gesù quindi abbiamo circoncisione e legge che sono fondamento dell'ebraismo arriviamo nel 68 circa avanti cristo con la dominazione straniera quindi con la dominazione romana di fatto poi successivamente con la morte ero di grande nel 4 avanti cristo con la giudea che fondamentalmente diventa successivamente poi nel 6 dopo cristo diventa un vero e proprio protettorato romano quindi un governatorato romano in piena regola con dei prefetti che piano piano si succedono tra cui il più famoso ovviamente Ponzio Pilato e quindi con la dominazione straniera che si fa sempre più stringente e dove ovviamente gli ebrei si sentono sempre i più traditi da quelle promesse non mantenute in questo caso la terra promessa che non veniva effettivamente rivendicata per sé e quindi vi erano dei diciamo così dei battagliei dei partigiani come nel caso per esempio giù il galileo ma abbiamo anche teuda l'egiziano sono nomi che ovviamente per chi mastica un pochino di questi argomenti ben conosce cioè sono quindi quei capi messianici che si che rivendicavano per sé una propria identità messianista quindi di messia puramente politico cioè quindi di liberatore dello stato di israele e in tutto questo frangente quindi che va dalla nascita di gesù che è più o meno due anni prima la morte del grande se ci attestiamo per esempio a matteo fino al 33 d.C. quindi con l'inizio della sua vita pubblica Gesù il Gesù umano ha dovuto comunque vivere esattamente propriamente queste cose personalmente sulla sua pelle quindi ha dovuto crearsi delle aspettative ha dovuto creare si è dovuto creare anche una una propria mentalità in riferimento a tutto quello che stava accadendo in riferimento anche al diciamo così a un ebraismo che di certo non era uniforme perché appunto ricordiamo giuseppe flavio storico ebreo romano ma anche filone d'alessandria che era un ebreo ellenizzato un importante filosofo che descriveva anche la situazione politica al tempo degli ebrei all'interno dell'ebraismo stesso cioè i tempi di gesù cioè con quattro scuole che si facevano guerra fra di loro i farisei si aducei gli esseni gli zeloti ma queste erano quattro macro aree ben distinte fra queste poi gravitavano delle scuole inferiore e pensiamo anche ad altre due macro aree superiore a queste quattro c'è la scuola di Hillel maestro ebreo molto più liberale diciamo così e la scuola di Shammai una scuola invece molto più rigorista cioè in mezzo a tutto questo gravitava ovviamente il piccolo personaggio perché tale era all'interno di questo vasto panorama storico politico e sociale il piccolo personaggio del Gesù essere umano quindi in che modo Gesù essere umano è stato influenzato da tutto questo in che modo il Gesù essere umano ha potuto affrontare tutte queste cose cioè è interessante porsi queste domande per riuscire a concepire esattamente come il Gesù essere umano abbia potuto operare esattamente in quella in quell'esercizio pubblico che aveva durato sì e no poco più di un anno quindi è una domanda che secondo me o meglio sono domande che secondo me devono essere ben poste per cominciare a parlare esattamente di un Gesù storico ecco perché partire dai Vangeli secondo la mia modestissima opinione è errato proprio perché ripeto abbiamo un Gesù che è già formato e che non tiene conto secondo la mia modestissima parere di tutta la di tutto il contesto storico di riferimento sostanzialmente allora se avete le domande voi cominciate a farle quindi vediamo un pochino se c'è qualcuno che già ciao Maria ciao Domenico allora Viviana mi chiede quanto erano presenti gli esseni in quel tempo e quanto può avere influenzato l'essere Gesù in quel periodo allora gli esseni secondo un calcolo fatto sia da Giuseppe Flavio che da Firono ad Alessandria erano più di 4.000 era il gruppo più numeroso insieme ai farisei mentre i Sadducei gli Zeloti potevano essere più o meno un centinaio un cento duecento trecento ma come dico anche nel libro nel mio secondo libro questo non significa che fossero meno influenti per fare un esempio i Sadducei erano sì inferiori di numero ai farisei e agli esseni ma sostanzialmente i Sadducei erano veri e propri collaborazionisti dei Romani sia la Cassa Giordotale sia gli effari del Tempio erano gestiti per esempio dei Sadducei che quindi erano il vero e proprio establishment della Palestina quindi della Giudea soprattutto ovviamente poi i farisei ne facevano anche parte però i Sadducei che dettavano sostanzialmente legge Tani Banani mi chiede perché Giovanni Battista non ha voluto assumere il ruolo di Messia di Israele e ha chiesto a Gesù di assumere quel ruolo allora come io dico nel mio libro siamo sicuri che Giovanni Battista non abbia assunto nessun ruolo messianico al tempo? mi spiego meglio se prendiamo per esempio le antichità giudaiche di Giuseppe Flavio che sono scritte dopo le guerre giudaiche quindi attorno a 90 d.C. le antichità giudaiche avevano un'altra finalità mentre le guerre giudaiche scritte poco dopo il 70 avevano sostanzialmente la pretesta di descrivere appunto come dice il titolo stesso le guerre che sono combattute durante il periodo tra il 66 e il 70 ovviamente facendo anche un pochino di cronostorie quindi facendo comprendere al lettore perché si è arrivato a quel punto le antichità giudaiche invece avevano un altro scopo cioè quello di descrivere un pochino la storia di Israele e quindi di rabbonire un pochino il popolo romano che era ancora fortemente arrabbiato e influenzato dalle guerre giudaiche combattute vent'anni prima nei confronti del popolo ebraico nelle antichità giudaiche abbiamo appunto una descrizione di Giovanni il Battista che guarda caso è fortemente discordante con quello che ci raccontano i Vangeli i Vangeli cosa ci raccontano? ci raccontano il Giovanni il Battista ovviamente se noi rimaniamo sempre alle traduzioni italiane perché se cominciamo a buttarci sulle traduzioni greche la cosa comincia a essere un pochino differente però rifacciamoci l'ottanta traduzione italiana per ora abbiamo Giovanni il Battista che sostanzialmente è un maestro di morale è un maestro quasi ascetico che combatte sostanzialmente le brutture morali della società del tempo nell'antichità giudaiche invece l'unico riferimento che si fa di Giovanni il Battista Giuseppe Flavio ci descrive invece un vero e proprio capo politico l'arresto di Giovanni il Battista da parte di Erode non è causato da un'accusa di tipo morale di Giovanni il Battista nei confronti del sovrano quindi del sovrano che è invaghito di Erodiade che è la moglie del fratello insomma ma invece nell'antichità giudaiche è descritto invece un erode antipa che in via del tutto preventiva arresta Giovanni perché arresta Giovanni stava ringando le folle stava riuscendo anche ad avere amicizie nei ranghi più alti della società e quindi cito proprio letteralmente in questo caso Giuseppe Flavio proprio per paura di una solmossa Erode arresta Giovanni il Battista e lo incarcera nella fortezza di Macheronte quindi qui abbiamo una chiara evidenza in Giovanni il Battista che sta ricoprendo in quel momento un ruolo politico poteva essere effettivamente un ruolo di messia politico questo non lo sappiamo è anche vero però che Giovanni il Battista secondo quello che dice il teologo e il cardinale Jean Danielou nel suo libro l'origine del cristianesimo mi sembra che sia i manoscritti del Mar Morto dell'origine del cristianesimo edizione Archeios descrive Giovanni il Battista come un un possibile profeta esseno proprio perché la sua formazione che è avvenuta nelle regioni desertiche della Giudea quindi vicino al Mar Morto possono forse ricondurre questa formazione alla comunità esseno di Qumran quindi magari se effettivamente Giovanni il Battista ha avuto una formazione fra gli esseni può aver forse maturato l'idea dei due messia perché come ben sappiamo l'attesa per esempio per gli esseni di Qumran che era appunto una comunità ascetica all'interno di Qumran ma gli esseni comunque erano sparsi in tutto il territorio della Giudea e non solo per gli esseni di Qumran l'attesa del messia era duplice cioè attendevano un messia di tipo politico e un messia di tipo sacerdotale magari forse forse e Giovanni il Battista forte di questa credenza essena forse stava rivendicando per sé un messia di tipo sacerdotale forse e per Gesù magari un messia di tipo politico però entro molto nel dettaglio per quanto riguarda questo concetto nel mio secondo libro quindi non mi dilungo ulteriormente allora Maria Coco mi chiede è più una riflessione vediamo un pochino è più una riflessione che una domanda vediamo se ho capito bene prima Pompeo dopo ero del grande e gli archilestes poi troviamo gli ebrei intransigenti legati al patto con Yahweh dall'altra gli ebrei ellenisti fino ad arrivare alle otte messianiste e come comporre te sei di un paso tu hai un lavoro importantissimo ah ok grazie a te Maria si nel senso effettivamente è vero cioè nel senso noi pensiamo al soltanto a quello che era il tessuto della società ebraica come abbiamo già detto abbiamo farisei sadducei esseni e zeloti ma già fra gli zeloti per esempio vi erano delle faide interne proprio per accaparrarsi il titolo di capo messianista basti pensare anche per esempio come dico sempre a ciò che stava accadendo durante la presa di Gerusalemme da parte dei romani quindi attorno al 67 d.C. durante l'assedio due capi zeloti e cioè Simone Barbiora e Giovanni di Giscala erano due capi messianisti molto influenti che però si facevano alla guerra tra di loro nonostante nonostante il nemico fosse alle porte tanto era l'attesa messianica cioè l'investitura messianica non solo Eleazzaro un altro capo messianista che si rifaceva alla famiglia di Giuda del Cadileo si era investita addirittura delle vesti regali all'interno del tempio e poi ucciso da altri zeloti cioè da una faida differente quindi già fra di loro si combattevano ma anche per esempio tra i farisei vi erano delle discordanze basti pensare per esempio a farisei che erano molto più come posso dire molto più moderati come per esempio Gamaliele e invece farisei molto più radicali come per esempio Sadoc che insieme a Giuda di Galileo hanno fondato quella che fu poi la famosa setta degli zeloti quindi ecco perché bisogna comprendere esattamente il contesto storico ma non solo ma quello sociale culturale anche politico per cominciare a comprendere esattamente la figura del Gesù storico perché comunque Gesù si è dovuto muovere in un modo o nell'altro spogliandolo dalla veste teologica per ora perché dal punto di vista puramente storico non trova ragion d'essere si è dovuto muovere all'interno di tutto questo di tutto questo marasma e in che modo ripeto l'altra volta la domanda che ho fatto prima in che modo ne è stato influenzato siamo sicuri che ne è uscito completamente diciamo così intonso e quindi completamente neutrale anche nella scelta dei suoi collaboratori ne siamo completamente sicuri i suoi collaboratori avevano compreso effettivamente quindi parlo degli apostoli il suo messaggio lo hanno compreso fino alla fine dopo non lo hanno rimaneggiato quindi sono rimasti coerenti cioè sono tante domande che è giusto è giusto comunque dare una risposta a tutto questo allora allora tani mi dice grazie ho letto il libro ma avevo chiaro quel punto solo di giovanni figurati e allora maria mi chiede come hanno presentato giudo il galileo negli attegli apostoli allora come un un capo un capo un capo zelota molto pericoloso insieme per esempio al insieme a a teuda gli atti degli apostoli poi cambiano la tradazione cioè nel senso giudo il galileo lo postano a teuda mentre teuda è prima di giudo il galileo cosa ovviamente errata ma la cosa interessante di quel passo agli atti degli apostoli dove si parla di giudo il galileo è che il giudo il galileo è associato al movimento apostolico cioè Gamaliele uno dei maestri farisei che si pensa sia stato il maestro di Paolo di Tarso secondo tradizione dice sostanzialmente confronto il movimento apostolico ovviamente post morte di Gesù quindi il movimento gesuano nella sua interezza per il tanto pericoloso come erano pericolosi i capi zeloti al tempo questa associazione è molto interessante e mi mi porta alla mente ciò che scrive il il cardinale Danielou soprattutto nella nel nel recensire il lavoro di Samuel Brandon Gesù e gli zeloti quando scrive ricordo cardinale e teologo quando scrive che Marco e gli altri evangelisti hanno dovuto censurare in gran in larga parte la figura del Gesù uomo Gesù politico proprio per le sue simpatie antiromane non solo ma nel suo libro la chiesa e gli apostoli sempre di Zonarcheios e lo stesso Danielou afferma che almeno almeno simone lo zelota ma quindi diciamo così non esclude anche molti altri apostoli facevano parte del movimento zelota dissidente quindi come possiamo ben vedere se noi cominciamo a calarci all'interno del contesto storico vediamo che forse magari Gesù forse lui ha voluto mantenere magari un atteggiamento del tutto neutrale non lo so diciamo che poi nel libro entro nel dettaglio però nella scelta dei suoi collaboratori come ho scritto anche nel mio primo libro ha dovuto fare necessità virtù cioè ha dovuto cogliere purtroppo quello che la società del tempo offriva ovviamente rischiando e come ho avanzato a livello di ipotesi magari diciamo così venendo anche tradito non solo da uno allora vediamoci un'altra domanda vedo che stanno arrivando altri Aldo Cristiano è arrivato e Fabrizio sono arrivati e quindi vi ringrazio vediamo un pochino se ho dimenticato qualcosa buonasera Aldo un abbraccio anche a te allora in attesa di altre domande io continuerei un'altra considerazione e cioè no io ultimamente ho fatto un ho postato sulla mia pagina sulla pagina personale qui quindi questa autorale ma anche su quella mia di facebook la normale una considerazione che è stata postata su una pagina che è storia del cristianesimo una pagina comunque dove sono presenti studiosi curiosi come me insomma ma anche persone che fanno parte quindi docenti universitari e non solo è stata citata una una pagina di un importante presbittore biblista come John Paul Meyer della sua opera monumentale c'è un ebreo marginale il riferimento proprio al Gesù storico cioè quindi a ripensare il Gesù storico dove appunto si diceva che considerare Gesù come addirittura accostarlo alla lotta zelota alla lotta dissidente era una lettura di tipo cospirazionista a me questa cosa ha fatto molto sorridere perché beh io molto apprezzo molto i lavori di John Paul Meyer perché comunque ripeto è un colosso nella sua nella sua nel suo genere però trovo interessante come all'interno anche delle posizioni di eminenti esponenti della storia del cristianesimo quindi da una parte metto il già citato cardinal Danielou dall'altra appunto un biblista come John Paul Meyer è interessante notare come Danielou come abbiamo detto prima considerasse probante quasi il fatto che gli apostoli e lo stesso Gesù potessero comunque avere simpatie antiromane quindi proprio il movimento zelota mentre per John Paul Meyer questo tipo di lettura è un tipo di lettura addirittura cospirazionista gli avrei messi volentieri diciamo così faccia a faccia e vedere John Paul Meyer che diceva a uno come Danielou comunque dalla sua caratura tu sei un cospirazionista ovviamente non è possibile perché purtroppo Danielou ci ha lasciati da tempo oramai vediamo un pochino fate domande fate domande perché i miei monologhi sono noiosi non so se avete letto io non so vorrei fare anche un'altra considerazione nel frattempo ah ok Enzo rispondo subito finisco quest'altra considerazione volevo fare quest'altra volevo dire anche questo anzi vediamo se perché ho visto che Fabio magari mi ricollega a quello che ha scritto Fabio ciao Francesco la ricerca del Gesù storico a partire dal contesto culturale dell'epoca potrebbe entrare in conflitto con le conclusioni moderne in tema di storicità dettate dal criterio storico critico della discontinuità e allora secondo me no c'è nel senso Fabio chiede se la ricerca attuale del Gesù storico quindi come ho detto io cioè partire dal contesto non dai Vangeli può entrare in conflitto con le conclusioni di tipo moderno quindi secondo il modello storico critico e secondo me no per il semplice motivo che a mio modestissimo parere soprattutto in campo accademico e soprattutto per quanto riguarda proprio la figura del Gesù storico ci sia ma ripeto il mio parere una sorta di pura convenzione ovviamente sottaciuta cioè così come per la questione di Paolo come possibile fondatore del cristianesimo per me non possibile per me è certa ma diciamo come possibile fondatore del cristianesimo non viene diciamo considerata in maniera esplicita ovviamente ma viene ripeto diciamo così sussurrata a livelli molto bassi ma convenzionalmente non si accetta Paolo come fondatore del cristianesimo la stessa cosa per quanto riguarda ovviamente la ricerca del Gesù storico cioè secondo me per quanto riguarda ovviamente il campo puramente accademico si arriva fino a un certo punto e poi si si lascia che determinate autori facciano delle considerazioni ovviamente molto sparse mi spiego meglio ripeto un'altra volta le considerazioni che ha fatto una un personaggio un teologo un cardinale come il Danielu quindi c'è di un Gesù e degli apostoli che sono molto vicini al movimento Zelota e dovrebbero avere un riverbero gigantesco immenso perché questa cosa non avviene perché se uno poi comincia a fare una ricerca puramente accademica sul Gesù storico abbiamo come nel caso appunto di un grande comunque come John Paul Meyer che dice se si accosta il Gesù al movimento Zelota si comincia a fare purtroppo cospirazionismo e questo purtroppo è una cosa che accade anche che accade molto a livello accademico e come ha sottolineato Mauro Biglino anche ultimamente per esempio con l'ultimo libro che ha scritto per Mondadori la Bibbia non l'ha mai detto cioè che purtroppo la teologia e le categorie teologiche ahimè influenzano giocoforza determinati ambiti che con la teologia non c'entrano niente ovviamente nel caso del libro di Mauro la Bibbia non l'ha mai detto la la legge italiana nel nostro caso ovviamente e ma nel caso in cui stiamo diciamo così di cui stiamo discutendo adesso per esempio appunto la ricerca del Gesù storico cioè sembra che non si voglia fare un passo successivo proprio perché purtroppo troppo influenzati dalla lettura dei Vangeli ma non solo dall'influenza che questi hanno comunque avuto all'interno del nostro panorama culturale quindi a mio parere bisogna osare un pochino di più e non osare in singoli libri e quindi fare considerazioni sparse ma farlo all'interno purtroppo di un percorso specifico e quindi cominciare a ridettare determinate categorie e determinati parametri per fare un altro esempio il concetto di Paolo come fondatore del cristianesimo io nel mio primo libro il cristianesimo in dimensioni San Paolo ho citato molti autori accademici rinomati e quindi conosciuti ovviamente fuori da ogni sospetto che facevano considerazioni specifiche molto interessanti e che dettavano ovviamente questa linea di pensiero cioè quindi di Paolo come possibile fondatore del cristianesimo però sono ovviamente considerazioni puramente sparse all'interno di libri che diciamo così non c'entrano nulla fra di loro ma che se messi insieme portano poi a quella considerazione perché queste considerazioni non si vogliono fare all'interno di un percorso preciso no? di ricerca cioè questa cosa è veramente cioè veramente incredibile perché? perché purtroppo si è dettati sempre dalla pura convenzione influenzata purtroppo dalla teologia e dalle influenze che ripeto il testo evangelico nel nostro caso ha nel diciamo così nella nella nostra vita quotidiana ma non solo che purtroppo non si va non si va oltre e purtroppo il dato che il mondo accademico e concludo dato che il mondo accademico è anche molto restrittivo e quindi colmo di paletti ne ho avuto diciamo così ne ho avuto ho avuto modo di diciamo così di provarlo sulla mia stessa pelle più volte allora per paura anche di perdere un pochino di quell'ara d'autorità che si è anche avuta di perdere anche molte volte il posto di perdere anche credibilità non si va oltre con le considerazioni cioè una è una sensazione che ho avuto io nel corso di tutti questi anni spero di aver risposto adeguatamente alla domanda Fabio allora Enzo Anselmo mi chiede Saulo ha programmato la storia di Gesù per conto di qualcuno no fondamentalmente no perché comunque Paolo non non parla della vita di Gesù cioè le lettere di Paolo non hanno alcun intento biografico l'unico elemento biografico che Paolo fa di Gesù che è una lettera dei Codinsi è quando spero di non sbagliarmi è quando appunto dice che Gesù è nato da donna nato sotto la legge l'unico riferimento biografico che abbiamo la cosa interessante come dico sempre che Gesù scusate che Paolo non non parla assolutamente della verginità di Maria cioè e voi immaginate sempre in quel contesto in cui la verginità di Maria doveva essere palese no? come fatto straordinario e questo fatto straordinario non viene non viene addirittura narrato da Paolo cioè Paolo lo ignora completamente dice soltanto che Gesù è nato da donna sotto la legge per magnificare ancora di più di Gesù e quindi la sua carica divina perché Paolo stava costruendo quello avrebbe dovuto dire nato sotto la nato da donna vergine eccetera 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 ha fatto meraviglioso straordinario così come i Vangeli ci vogliono ricamare e invece guarda caso non non dice niente di tutto questo è un caso? bah non sappiamo allora in attesa di altre domande stasera state latitando un pochino solitamente vi vedo più scatenati e invece stasera stasera no e ributtandomi sul concetto del Gesù storico io sono arrivato anche a a fare altre considerazioni all'interno del libro ovviamente diciamo così le le butto un pochino lì poi per chi volesse approfondire e può acquistare ovviamente il Cristo illegittimo il Gesù il Gesù essere umano cioè quindi come l'abbiamo concepito all'inizio e quindi quella riflessione laica sul Gesù verte sostanzialmente su tre aspetti fondamentali che io come ho sempre detto considero tre punti specifici di delegittimazione quindi da qui il titolo il Cristo illegittimo uno di questi punti quindi uno di questo punto di delegittimazione è una delle legittimazioni come sapete di tipo sociale c'è quell'accusa che gravava nei confronti del Gesù storico cioè di essere un più illegittimo accusa che esplosa dal secondo secolo a partire dal filosofo medio platonico e anticristiano Celso nel suo discorso vero poi ripreso da origine padre della chiesa nel suo contro Celso ma che era presente anche in critiche sostanziali della cultura ebraica basti pensare per esempio alla cultura talmudica e alla vasta letteratura talmudica a partire dal quarto secolo in poi queste accuse però sono anche presenti timidamente nei Vangeli canonici e anche quindi nei Sinotici e in Giovanni timidamente però ovviamente ripartiamo sempre lì cioè nel senso la conoscenza del contesto storico e culturale ci aiutano a comprendere come anche negli originali dei Vangeli greci quindi in questo caso gli originali greci si arriva quindi a comprendere sostanzialmente questo tipo di accusa in che modo ha influenzato Gesù questo tipo di accusa ovviamente come ha ricevuto una rilegittimazione da questo punto di vista lo spiego nel libro in associazione ovviamente al battesimo del di Giovanni Battista però non entro più nello specifico e come ha influenzato però questa sua giovinezza quindi di figlio legittimo lo ha influenzato attraverso appunto la sua predicazione e diciamo anche per la sua attività pubblica mi spiego meglio di fronte a quello che poteva essere un possibile capo politico un possibile capo zelota ci si aspetterebbe no un Gesù comunque feroce in base a quello che ci scrive appunto Giuseppe Flavio e Filone per quanto riguardava gli zeloti cioè che erano quindi persone intergerrime che erano persone molto violenti erano molto radicali su Gesù comunque non abbiamo questa descrizione si fa in molti casi discorsi molto molto radicali nel senso o sciogliete me o siete contro di me però non si parla sostanzialmente di veri e propri atti sovversivi a parte comunque la presa del Tempio che poi lì diciamo così sarebbe il culmine nella sua attività pubblica e la si potrebbero fare poi altre considerazioni però se noi vediamo tutte le parabole tutte quante le corrigioni che è facile eccetera vediamo che Gesù si concentra soprattutto sugli ultimi della società e quindi qua avanzo una specifica una specifica opinione ma non solo anche ipotesi e se Gesù magari magari da qui possiamo anche generare altre discussioni altre domande e se magari il Gesù della storia quindi il Gesù storico il Gesù uomo forte anche dell'empatia che ha avuto per gli ultimi della società in quanto anche lui ultimo della società cioè ultimo come figlio legittimo può aver avuto quella empatia tale da provare anche un riscatto sociale per tutte quelle persone che come lui non avevano avuto voce in capitolo fino ad allora all'interno del panorama sociale perché ricordiamo che per la Torah gli ultimi non avevano alcuna voce in capitolo erano proprio dei veri proprio reietti della società basti pensare anche alle donne e ai bambini cosa impensabile al tempo e quindi tante geste di Gesù che noi leggiamo e ben descrivono i Vangeli forse anche troppo infarcite di un elemento teologico e non solo magari possono trovare però un riscontro dal punto di vista storico magari può aver anche tentato un riscatto di tipo sociale e quindi anche forse per questo è stato forse tradito da parte dei suoi che invece avevano delle aspettative differenti quindi Gesù non aveva soltanto in mente un riscatto politico ma anche sociale vediamo un pochino che ne pensate anche voi ecco in attesa vediamo un pochino se ho saltato qualche domanda allora vediamo un po' ma voi mi leggete sì nel senso voi mi vedete perché io mi sa che non vi leggo vediamo un po' non vorrei che sia bloccata la diretta per questo vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' ah ecco non vedo scorrere i commenti e allora la stessa cosa anche io perché non vedo scorrere i commenti per questo ok vediamo un pochino ok allora Enzo mi chiede se parlo della crocifissione della resurrezione ok allora sono due sono due aspetti fondamentali secondo me per concepire per concepire ecco sì anche adesso anche io per quanto riguarda i commenti da scorrere ok perfetto grazie per la pazienza il bello è la diretta allora per quanto riguarda la crocifissione e la resurrezione in questo caso bisogna bisogna fare delle considerazioni specifiche perché come ben sappiamo crocifissione e resurrezione sono aspetti ovviamente che sono molto delicati nel caso della della resurrezione partiamo da un da un aspetto da un aspetto importante e c'è Paolo il primo che ci dà questo elemento di testimonianza nelle sue lettere e lo fa secondo una giustificazione specifica a mio parere una giustificazione di comodo c'è paolo arriva a concepire la resurrezione dei morti non solo per la sua tradizione farisaica perché appunto la tradizione farisaica prevedeva la vita dopo la morte e la resurrezione a differenza invece dei sadducei ma lo fa anche per un'altra questione specifica lo fa perché sostanzialmente mentre diciamo così la comunità gesuana attendeva subito l'arrivo di gesù attraverso quel grido quel maranatà quel vieni signore fai presto quindi quell'esortazione forte che succedeva succedeva però che i primi di quella generazione che dovevano diciamo così accogliere l'arrivo del del gesù della resurrezione cioè del gesù di Paolo stavano morendo e questa diciamo questa sofferenza da parte delle comunità che Paolo stava diciamo così stava evangelizzando era tanto forte tanto che molti gli chiedevano Paolo ma qui la gente sta morendo tu ci avevi promesso che invece sarebbero risorti e avrebbero accolto il il Cristo della resurrezione e da lì Paolo si giustifica attraverso la dottrina della resurrezione cioè attraverso quelle quella dottrina della resurrezione forse farisaica però molto impregnata delle caratteristiche di rito ellenistico perché Paolo sostanzialmente introduce all'interno della pratica della resurrezione il cosiddetto corpo spirituale come dico sempre il cosiddetto soma pneumatico che faceva parte della cultura ellenistica e che sostanzialmente sostanzialmente prevedeva un tipo di resurrezione che magari forse era differente era quasi un cambio di paradigma un pochino che si poteva forse avvicinare a quella metanoia cioè quindi a quel cambio di mentalità sempre di cultura ellenistica cioè per Paolo era una trasformazione di tipo corporale cioè nel senso non si parlava quindi di un morto che riapriva gli occhi e le suscitava ma era proprio un cambio completo ovviamente molto complicato al tempo da concepire per cioè per ebrei che non conoscevano fondamentalmente nulla di tipo ellenistico ovunque che rigettavano la cultura ellenistica e invece molto invece molto più in linea con la cultura pagana quindi con la cultura latina ellenistica che trovano molta familiarità in tutto questo per quanto riguarda la crocivissione la questione è ancora più spinosa per un semplice motivo che durante gli episodi durante i vari episodi descritti dai canonici della crocifissione c'è un elemento abbastanza interessante e che secondo me anche in questo caso come ho descritto prima cioè nel senso no il le varie convenzioni accademiche cioè che non si va poi oltre un certo punto c'è un elemento comune a tutti gli episodi della della crocifissione che secondo me è stato preso abbastanza sotto gamba cioè il fatto che a gesù non si siano state spezzate le gambe perché c'era questa pratica questa pratica era era comune per i romani perché se i condannati a morte tardavano a morire lasciando perdere poi la questione della della pasqua cioè nel senso che non potevano rimanere appesi durante il sabato di pasqua vabbè lasciando perdere questo e per i romani velocizzare comunque la morte del condannato permetteva loro di liberare le nuove croci i nuovi pali i nuovi albe dove comunque dovevano essere appesi i condannati per portarli di nuovi e nel caso dei due ladroni le gambe vengono spezzate quindi vengono quindi uccise l'istante proprio per per colpa proprio di quella di quella pratica a gesù non viene non viene fatto questo e gli viene infilzata questo soltanto nel vangelo di giovanni cioè gli viene infilzata dal costato da cui esce sangue d'acqua e lì poi le considerazioni vanno vanno davvero a mille e e non gli vengono spezzate le gambe la il nuovo testamento giustifica questo dicendo che già il profeta aveva il servo del servo sofferente il profeta Isaia aveva già profetizzato questo cioè che appunto a questo servo sofferente non gli veniva spezzato alcun osso però questa è una giustificazione che danno i vangeli è una giustificazione che danno i vangeli per un qualcosa che forse a quel tempo non era spiegato bene o che comunque loro avevano necessità di spiegare di fronte a una domanda che secondo me era 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 ben viva era ben attiva al tempo e cioè perché a un condannato a morte come Gesù le gambe non sono state spezzate perché gli altri sì a lui no come facevano a capire che era che era morto oppure no perché la questione della lancia che trafigge il costato che potrebbe essere una giustificazione cioè capire effettivamente se è morto o meno nei canoni nei sinottici non è presente ed è presente soltanto in Giovanni e sono spiegazioni abbastanza interessanti io per il terzo libro che sto scrivendo che sto già preparando sto reperendo molto molto materiale c'è una considerazione molto interessante che viene fatta da attenti studiosi alla materia accademici sempre quindi parliamo sempre di professori universitari in merito in merito in merito al ad un qualcosa ad un qualcosa che può essere avvenuto appunto durante la crocifissione voi avete in mente no? la spugna imbevuta si dice d'aceto che viene da Gesù c'è un un teologo tal runner uno hugo runner che è uno dei più importanti teologi anche dello scorso secolo il quale avanza un'ipotesi abbastanza interessante citando determinate fonti del tempo secondo cui appunto vi erano determinate sostanze che potevano portare alla morte apparente delle persone che assumevano ripeto tali sostanze sostanze che venivano utilizzate nei culti misterici ovviamente la sto prendendo molto alla larga perché non voglio essere specifico perché questo è il materiale che utilizzerò per il nuovo lavoro però tali sostanze vengono associate da alcune fonti antiche all'episodio della crocifissione guarda caso e questo si rifà ad alcuni ambienti ovviamente puramente teorici che vogliono ovviamente il Gesù storico che forse ripeto forse è stato tirato giù vivo dalla croce forse e questo riprende anche quella interessante bella figura molto umana molto materiale che è ben descritta nel protovangelo di Giacomo che è un vangelo del secondo secolo a cui anche la chiesa cattolica ha attinto attraverso il dogmatismo selettivo c'è da qui accolto alcuni dogmi mariani della verginità perpetua non so in quale modo non so in che modo onestamente se non per alcuni passi che possono essere tranquillamente essere stati interpolati successivamente dove è descritto scusatemi il vangelo di pietro non il protovangelo di Giacomo perdonatemi il vangelo di pietro sempre del secondo secolo e dove è descritta la l'uscita di gesù dal sepolcro dal sepolcro il vangelo di pietro è sì un vangelo apocrifo ma è un vangelo che ai tempi dei padri della chiesa era considerato un vangelo quanto meno utile per essere letto quindi non utilizzabile magari durante le funzioni eccetera eccetera però poteva essere comunque letto in privato e cogliere comunque gli insegnamenti solo dal sesto secolo in poi è stato poi considerato puramente eretico nel vangelo di pietro cosa leggiamo? leggiamo appunto di queste due persone che scendono dal cielo sotto un fascio di luce loro stessi spostano la pietra e diciamo così prelevano dal sepolcro una persona che non riesce a camminare cioè devono sorreggerla in spalla guarda caso questa figura molto umanizzata molto materiale sembra raffigurare una persona che ovviamente è molto stanca è molto debilitata è molto diversa dalla figura del Cristo della resurrezione che in gloria esce dal sepolcro e ho anche colto alcune immagini rappresentazioni artistiche molto interessanti anche nel mio articolo che ho scritto per era magazine che trovate in eticola già da oggi quindi un Gesù che è glorioso esce dal sepolcro no assolutamente nel Vangelo di Pietro è proprio descritto questo Gesù che è stanco arranca e deve essere addirittura aiutato da altre due persone questa cosa pare trovare un filo rosso proprio con l'episodio appunto della crocifissione che ho descritto prima però ripeto non entro molto nel dettaglio perché sarà parte delle materiali di studio del mio futuro lavoro che ho appena accennato ma che spero di potervi parlare diciamo così in maniera più dettagliata più o meno nelle prossime settimane allora buonasera Bianca ho letto anche un'altra domanda ah ok Adriano Marionucci mi scrive gli ebrei seguendo la Bibbia dei settanta aspettavano due messia uno politico e uno religioso a leggere almeno i Vangeli Gesù descritto forse potrebbe essere al massimo quello religioso allora mi chiedo come mai gli stessi ebrei non lo hanno riconosciuto allora no la Bibbia dei settanta no riconosce soltanto un solo messia e come ho detto prima la tradizione puramente essena che ne riconosceva due magari forse anche altre tradizioni ebraiche ne riconoscevano due perché noi ricordiamoci un'altra cosa gli scritti esseni di Qumran cioè derivanti dalla tradizione del Mar Morto sono gli unici documenti che ci sono rimasti tra virgolette integri prima della distruzione di Gerusalemme quindi prima del settanta dopo Cristo cioè sono proprio gli unici documenti rimasti intatti del secondo tempio che sono puramente ebraici perché appunto molto ben conservati nelle giare all'interno delle grotte sempre lì nelle zone del Mar Morto e che non hanno subito oltretutto le trasformazioni le reinterpretazioni anche dei padri della chiesa e non solo quindi sono documenti integri tutti gli altri documenti comunque ebraici sono posteriori alla distruzione di Gerusalemme quindi hanno subito determinate influenze temporali intellettuali filosofiche e non solo quindi a leggere i Vangeli come ho anche detto prima Gesù si allora se noi leggiamo i Vangeli con la coerenza teologico dottrinale allora si poteva essere il leader religioso Gesù però molto più facile che forse stava incarnando in quel momento il messia politico e come dico nel libro c'è stato un episodio specifico nella sua vita cioè l'arresto e la morte di Giovanni il Battista che forse era il suo mentore che ha portato Gesù a cambiare le regole di ingaggio cioè a cambiare sostanzialmente i suoi piani magari portando anche alle ire di chi credeva in lui in quel momento e che stava accanto a lui non solo Giuda non solo Giuda Fabio mi chiede a proposito della spugna con l'aceto non è più diretto pensare che si trattasse di semplice posca in fin dei conti utilizzo della spoggia su polifera attestato solo a partire dal nono secolo eh no 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 io come ha già detto Fabio non posso entrare troppo nello specifico e mi riservo la riservatezza guarda il gioco di parole delle mie fonti però sono ripeto fotte accreditate eccetera 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 accademiche studiosi universitari addirittura teologi dove si parla proprio di determinate piante che se sciolte in acqua non solo anche in vino potevano portare a una vera e propria morte apparente però mi fermo qua mi fermo qua mi fermo qua eh dovete fare un atto di fede eh allora però ne parlerò eh ne parlerò in maniera in maniera ben ben massiccia allora Viviana mi chiede è che tramite l'influenza di Giuseppe D'Arimatea potesse aver trovato riparo dopo la posizione della croce ah eh si perché Giuseppe D'Arimatea che comunque era uno dei suoi seguaci in segreto cioè il seguaci del Gesù storico eh gli ha fornito fondamentalmente la tomba anche in questo caso si dice Gesù è risorto dopo tre giorni ma facciamo bene i calcoli Gesù è morto sì e no attorno alle tre del venerdì pomeriggio ok è stato deposto alla croce poco prima del tramonto perché poi ricordiamo che per gli ebrei la giornata comincia dopo il tramonto e e e quindi poi è nella mattina del diciamo così del del lunedì quindi del primo giorno della settimana alla prima dell'alba in alcuni casi l'alba altre prima dell'alba e le donne arrivano e trovano già il sepolcro vuoto quindi abbiamo eh parte del venerdì tutta la giornata di sabato e se va bene e se va bene eh parte parte non lunedì la domenica scusate e parte la domenica quindi la prima giornata della settimana era domenica per gli ebrei per noi lunedì quindi abbiamo parte del venerdì tutto sabato ok e parte della nottata di sabato quindi se va bene noi abbiamo 36 ore in cui Gesù è rimasto all'interno del sepolcro 36 ore quindi non tre giorni ok e 36 ore diciamo così rende già più interessante la questione quindi rende già più credibile una sua una sua eh un suo diciamo così un suo coinvolgimento differente in tutta la vicenda quindi un Gesù magari forse vivo che attenda all'interno del sepolcro ovviamente ben curato eccetera eccetera e che poi esce ovviamente stanco come il Vangelo di Pietro ripeto sono soltanto ipotesi queste e quindi non andiamo troppo oltre cioè rimaniamo sempre fermi alle fonti quindi un Gesù che è morto fondamentalmente in croce e poi da lì diciamo così la ricerca storica si ferma perché come dicono anche gli storici accademici la ricerca storica non può discutere l'evento della resurrezione però è doveroso fare delle considerazioni cioè perché è doveroso capire perché nei primi seguaci sia nata questa convinzione avevano ragione le fonti ebraiche che accusavano gli apostoli di aver trafugato il corpo avevano ragione per esempio le fonti ripeto l'Evangelio di Pietro dove si parla appunto di questi esseri che scesi dal cielo spostano la pietra e traggono un Gesù comunque sofferente e stanco avevano ragione le fonti paoline che parlano invece proprio di una resurrezione vera e propria e concludo questa questa parte della resurrezione dicendo uno dei termini utilizzati all'interno dei Vangeli un termine greco che viene spacciato per resurrezione invece è Gerte e cioè lo svegliarsi cioè ma lo svegliarsi proprio da un sonno profondo cioè un riaprire degli occhi non dal sonno della morte il sonno della morte è avvenuto dopo cioè il termine Gerte è stato poi successivamente poi rivisto in termini puramente teologici quindi anche in questo caso cerchiamo di soppesare bene le cose poi magari sto dicendo un sacco di cavolate immense e ce ne faremo una ragione però per ora la cosa rimane cioè così rimane sospesa Fabio Conti mi chiede come ti spieghi i finali degli angeli così diversi per Marco dichiaratamente aggiunti in epoca successiva Giovanni con una successione di finali anche lo stesso Gesù che ordina gli apostoli di andare in Galilea in un altro Vangelo di restare a Gerusalemme Giovanni concede le posizioni di andare a tornare insomma andare su e giù per cento chilometri che senso avrebbe? semplicemente come descrive anche il professor Mauro Pesce e la professoressa Diana Destro nel loro libro mi sembra che fosse del Carrocci no della Rizzoli mi sembra la morte di Gesù danno una giustificazione molto molto coerente e cioè i Vangeli erano frutto di tradizioni diverse il Matteo Luca Giovanni Marco non erano gli apostoli di Gesù cioè Luca al massimo era un discepolo di Paolo Marco al massimo poteva essere un discepolo di Pietro ma non hanno mai conosciuto Gesù fondamentalmente sono nomi puramente convenzionali e si facevano tradizioni differenti scritti scritti anche in epoche differenti e scritti anche in luoghi geografici differenti dove le comunità avevano una loro idea di Gesù parliamo di Avesandria parliamo di Roma parliamo per esempio della zona della Samaria e se pensiamo per esempio a Giovanni perché alcuni lo datano proprio lo collocano proprio all'interno del territorio samaritano e così via Luca addirittura in puro territorio ellenistico insomma parliamo di una eh differenza di luoghi geografici e anche di periodi storici differenti quindi si nel caso di Marco non abbiamo nell'originale di Marco finale non abbiamo addirittura l'annuncio della resurrezione da parte delle donne quindi il finale di Marco si ferma si stoppa con le donne fuggirono via spaventate senza dire nulla a nessuno quindi voi immaginate il primo vangelo della storia che si conclude in questo modo cioè una roba folle successivamente poi è stato aggiunto un epilogo di Marco che è chiamato proprio epilogo di Marco ma è un'aggiunta a posteriori il vangelo di Matteo si colloca quindi con l'arrivo degli apostoli in Galilea quindi posto resurrezione addirittura che dubitano e questa è una cosa meravigliosa cioè nel vangelo di Matteo quando raggiungono il monte della Galilea dove c'è il Gesù della resurrezione quindi il Gesù risorto che li aspetta in carne ed ossa e vi è scritto in molti dubitarono vedendolo è bellissima questa cosa come fai a dubitare di una persona che fino a tre giorni prima l'hai vista viva vogliamo essere proprio cattivi fino a una settimana prima l'hai vista viva ed è una costante che si trova anche nel vangelo di Giovanni ho anche scritto un articolo in merito nel blog di un editori cioè perché vi è questa costante del 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 dubitare della figura risorta ripeto una figura risorta in carne ed ossa e perché non solo del dubitare ma anche di un non riconoscimento di quella persona post resurrezione era davvero cambiata così tanto oppure sostanzialmente i Vangeli non potevano tacere forse di un qualcosa che a livello storico ancora non poteva essere sottaciuta ma che poteva essere in parte modificata però ripeto poi qua entriamo nel campo delle ipotesi e poi entriamo nel campo delle ipotesi è facile scadere anche un pochino nella fantascienza quindi mi fermo qua allora i Romani invece l'hanno visto solo come problema politico per cui tant'è vero che l'eventuale crocifissione potevano farla solo loro gli ebrei al massimo lanciavano pietre riassumendo il Gesù era politico o religioso? allora come ho già detto Gesù secondo me Gesù storico era un Gesù puramente politico non aveva nulla di religioso allora anche in questo caso in uno stato puramente teocratico quale era quale era la quale era appunto la palestina del tempo cioè quindi uno stato che fondava la propria politica nella fede in un libro quindi un pochino come fanno anche gli islamici oggi cioè nel senso nel Corano vedono un testo puramente normativo e un testo di semplicemente di vita sociale stessa cosa facevano gli ebrei erano stato puramente teocratico quindi fare anche una differenza fra politica e religione non ha senso cioè politica era religione e religione era politica al tempo è facile dire invece è un messia tipo politico è un messia tipo sacerdotale cioè un messia che doveva diciamo così relegare i suoi affari quindi nel tempio e quindi a ciò che riguardava Yahweh all'interno però del tempio è un messia invece tipo politico che invece doveva combattere per conquistare la terra promessa per riconquistare la terra promessa magari Gesù è partito con questa convinzione ma magari successivamente dopo visto ripeto ovviamente tutto il contesto sociale storico eccetera 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 avendo vissuto come figlio illegittime quindi come ultimo della società e quindi avendo quindi empatizzato con gli ultimi della società come lui magari ha tentato anche un riscatto di tipo sociale ripeto ha tentato perché poi non ci è riuscito e magari questo riscatto di tipo sociale ha tradito le aspettative vedi chi lo stava seguendo e che vedeva quindi lui soltanto quel messia politico che in maniera intransigente doveva ovviamente assoldere al suo ruolo di puro messia politico Allora Aldo ci sta la mia domanda sopra oddio l'ho saltata aspetto un attimo vediamo se riesco a prenderla subito altrimenti me la devi riporre eh no non la vedo Aldo mi devi riporre la domanda se puoi allora Adriano mi dice ok 70 non c'entrano o meglio parlo solo di un'attesa messianica quale aspettavano politico o religioso allora da quello che da quello che noi sappiamo dagli scritti ripeto per esempio di Giuseppe e Flavio eh aspettavano il messia politico cioè pure semplice pure semplice magari ripeto era soltanto prerogativa degli esseni l'attesa di due tipi di messia quindi politico e è sacerdotale però rimaniamo fermi a messia politico in quel caso Adriano mi chiede solo per curiosità ma a proposito di ore visto che i Vangeli sono scritti in greco dai greci magari loro contavano le ore in maniera diversa agli ebrei no, no perché comunque ciao Stefania ho visto anche che c'è Laura in diciamo così nella diretta quindi saluto anche Laura Laura Fezzia e allora no, 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 no perché comunque la base su cui i Vangeli sono stati costruiti è una base secondo quella che è ovviamente la concezione comune a livello accademico quindi secondo quelli che sono gli studi critici del Nuovo Testamento la base comunque è sempre una base ebraica-ramaica quindi anche ma anche i Vangeli che sono scritti in greco fanno una distinzione fra il venerdì in cui Gesù è morto secondo i sinottici il venerdì in cui Gesù è morto e quindi si stava avvicinando il sabato di Pasqua quindi con l'approssimarsi del tramonto e poi quando parlano del primo giorno della settimana che per gli ebrei ripeto era era la nostra Domenica quindi non c'è alcun dubbio su questo Stefano Romano mutaforma? ah sì nel caso sì nel caso del del diciamo così del del non riconoscimento del di Gesù anche per quanto riguarda il mutaforma perché uno potrebbe dire ma come adesso si parla di Gesù mutaforma adesso si comincia ad entrare nelle tesi complottiste ufologiche bla 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 assolutamente no i testi che ho preso in considerazione per il mio futuro libro quindi parliamo ripeto di testi accademici studiati da accademici e quindi soprattutto letteratura cristiana antica e in maniera molto più specifica parliamo degli apologietti di area greca del secondo secolo quindi Aristi degli Atene e Atenagola d'Alessandria Giustino Martire e anche Taziano dove vi era un'aspra polemica nei confronti soprattutto della tradizione ellenistica nei confronti anche della filosofia da parte soprattutto di Taziano di Scepo e Giustino Martire si parla anche di delle cosiddette divinità mutaforma e si parla anche delle divinità mutaforma secondo i testi critici curati dall'edizione San Paolo quindi siamo fuori da ogni sospetto si parla anche di queste aspe critiche che derivavano magari da una lettura che si facevano anche nel Nuovo Testamento di un Gesù che magari cambia forma e su questo cambio forma metto soltanto una piccola sottolineatura l'episodio della della trasfigurazione si parla della trasfigurazione ma vi invito a leggere i termini greci in cui la trasfigurazione è descritta proprio come una metamorfosi quindi un cambio di forma ma mi fermo qua perché mi sa che sto per utilizzare un linguaggio nerd sto troppo spoilerando il parte dei contenuti del nuovo libro quindi mi fermo qua Massimo Conti chiede non ricordo chi forse la maddalena scambia Gesù per un giardiniere assurdo veramente sì in questo caso sì addirittura i discepoli di Emmaus nel nel vangelo di Luca non lo riconoscono cioè addirittura in quel caso Gesù non vi è scritto che Gesù ha cambiato forma addirittura cioè in quel caso si parla proprio di un Gesù che è lì ma che non vuole farsi proprio riconoscere nel caso della maddalena poi Giovanni è meraviglioso cioè nel senso maddalena scambi in quel momento Gesù come il giardiniere della tomba cioè è una roba allucinante e ripeto sono questioni che se noi facciamo finta che il testo ci sta dicendo la verità quindi rimaniamo fermi a questo e dobbiamo prendere atto che i discepoli e la maddalena che erano persone che avevano comunque conosciuto Gesù e che fino a poche ore fino a poche ore prima gli erano stati accanto anche nel momento più diciamo così più crudo della sua esistenza all'improvviso lo hanno disconosciuto proprio a livello ottico ma è impensabile questa cosa questa cosa del muta forma però riprende ripeto riprende le caratteristiche delle divinità greche per quale motivo mi rifaccio a Giustino però per chi si ricorda la questione di Giustino Martire quindi di come associasse Gesù alle semi di divinità del tempo Giustino Martire ripeto apologeta padre della Chiesa nelle sue opologie può trovare delle associazioni Fabio Conti chiede perché a Gesù non gli fu contestato la motivazione religiosa che avrebbe permesso agli perché a Gesù non gli fu contestato la motivazione religiosa che avrebbe permesso agli ebrei di fare giustizia da sé come nel caso dell'abiliazione di Stefano perché nell'abiliazione di Stefano la questione è differente Stefano è un ebreo ellenista cioè è un ebreo di tradizione greca diciamo così tradizione ellenista perché noi non sappiamo esattamente le origini di Stefano di tradizione puramente ellenistica e viene attaccato e viene attaccato da un'altra frangia in quel momento ebraica perché ricordiamo anche questo fino all'arrivo della tradizione paolina il movimento gesuano non è il movimento cristiano eh i cristiani arrivano dopo così come gli atti ci descrivono alla fine del capitolo undici i gesuani sono una frangia puramente ebraica sono una scuola ebraica che in quel momento stava nascendo poi non sappiamo effettivamente le considerazioni che avevano che avevano i loro avversari ovviamente su questa su questa nuova scuola ebraica ma in quel momento è all'interno del contesto ebraico in tutto e per tutto si parla della morte di Stefano come un come il primo martire della storia cristiana ma in quel momento così come vi ho detto prima no? per quanto riguarda le lotte che si facevano i due capi zeloti Simone Bar Simone Bargiora e Giovanni di Giscala durante la guerra giudaica all'interno di Gerusalemme anche in quel caso abbiamo un possibile gesuano di matrice ellenistica come Stefano che in quel momento forse è stato attaccato da alcuni che sempre ebrei che stavano avversando una scuola ebraica cioè la scuola gesuana che in quel momento era mal vista magari proprio perché ancora fresco forse la morte di Gesù quindi quella delegittimazione politica che il messia politico ebraico quindi in questo caso Gesù aveva aveva subito aveva subito anche perché considero anche un'altra cosa a Paolo che è il esecutore materiale della morte di Stefano per alcuni manoscritti per gli atti invece è colui che ha soltanto dato l'ordine ma non è stato lui effettivamente a ucciderlo gli ebrei ellenisti non erano ben visti da una certa frangia di ebrei cioè gli ebrei zeloti intransigenti e visto che Paolo anche nelle sue stesse lettere si descrive come un ebreo zelante quando stava attaccando la cosiddetta chiesa di Dio cioè appunto la comunità la comunità gesuana anche in questo caso bisogna capire esattamente che ruolo stava ricoprendo Paolo in quel momento perché poi le notizie sono contraddittorie perché per esempio nelle lettere Paolo si descrive in questo modo ma allo stesso tempo Paolo va contro quel tipo di ebrei zelanti e incarna quella quella cultura ellenistica che per gli ebrei zelanti era inconcepibile quindi in che modo per lui era considerato zero della legge magari era un fanatico però un fanatico di più larghe vedute questo non lo sappiamo Viviana mi chiede Paolo esigeva che quando le donne pregavano e profetizzavano in chiesa lo facessero a capo coperto per dimostrare di avere sul capo il segno della potestà quindi Paolo non incoraggia una ops ecco qua quindi Paolo non incoraggia una rivoluzione sociale tra uomini e donne proprio come non incoraggia l'abolizione della schiavitù sostenendo però che in Cristo non esiste né schiavo né libero no allora Paolo la motivazione che dà Paolo sul capo coperto lo dà per un semplice motivo cioè il capo era segno coprirsi il capo era segno di dipendenza per gli uomini era di dipendenza verso Dio verso comunque un padrone in questo caso ripeto essendo stato teocratico la dipendenza era verso Yahweh nel caso delle donne Paolo è molto più specifico nella lettera di Corinzi perché dice appunto che le donne dovevano coprirsi il capo a motivo cioè a causa degli angeli e vi è un il testo curato del di Don Pierangelo Gramaglia che insegna all'università teologica di varietà settentrionale il quale cita molti testi dell'ebraismo del tempo anche i testi esseni o il trattato per esempio sulle Berahot cioè le benedizioni in cui si dice che non solo i capelli di una donna sono la sua nudità e quindi devono essere coperti ma che questi capelli eccitavano sessualmente gli angeli attenzione anche in questo caso non gli angeli spirituali perché gli angeli spirituali sono stati diciamo concepiti anzi utilizzo un termine molto caro a Giovanni Garbini che è uno dei più importanti semitisti è stato è uno dei più importanti semitisti non solo italiani ma anche a livello europeo cioè quando gli angeli non erano ancora stati inventati dice proprio questo nel suo libro Storia e ideologia di Israele antico edizione Paideia ma appunto i malachim biblici cioè i messaggeri gli angeli della tradizione ellenistica erano persone in carne e ossa cioè non erano spirituali e quindi questi capelli lunghi gli eccitavano sessualmente e quindi le donne secondo quanto dice anche lo stesso Paolo dovevano coprirsi il capo a causa loro cioè a motivo loro quindi Paolo non vuol non incoraggiare una rivoluzione sociale secondo me no perché comunque quando dice che non viene schiava nel libro allo stesso tempo dice che si è fatto anche giudeo per i giudei greco per i greci schiavo per gli schiavi eccetera eccetera c'è una sorta una vera proprio a captatio benevolensi c'è una ruffianarsi tutti quanti pur di poter avere la sua legittimità apostolica che dagli apostoli non ha mai ricevuto semplicemente questo allora Aldo Cristiano mi chiede Francesco potresti esplicarci l'innesto dei quattro evangelii canonici nella costruzione della nuova religione cattolica la loro scelta rispetto ad altri e un ceno sugli autori reali inventati eccetera Aldo proprio la pesa la larghissima ok allora i quattro evangelii canonici così come i canon sciamanoi sono stati inizialmente ehm concepiti come tali dai rene di Lyon secondo quello che diceva i rene di Lyon quattro erano esseri vangeli così come quattro erano i punti cardinali questo nel contro l'eresie nella sua opera magna diciamo così ehm però sostanzialmente i vangeli nel primo e nel secondo secolo erano molteplici eh ripeto basti pensare al protovangelo di Giacomo basti pensare al vangelo di Tommaso che attualmente alla critica moderna è considerato come il quinto canonico ehm nonostante ehm alcune influenze ignostiche ma che comunque ha anche il vangelo di Giovanni il vangelo di Tommaso è quello che dimostra l'esistenza della cosiddetta fonte Q cioè nel senso della fonte ehm dei detti c'è quindi precedente ai vangeli il vangelo di Tommaso è quello che ha forse combattuto il vangelo di Giovanni o il vangelo di Giovanni all'epoca ha combattuto quello di Tommaso ma comunque ripeto abbiamo quello di Tommaso abbiamo quello di Filippo così come abbiamo il vangelo di Verità abbiamo la Pisti Sofia e tanti altri vangeli ehm i vangeli comunque erano molteplici ovviamente poi a livello puramente storico non possiamo mettere sullo stesso piano i vangeli dei primi due secoli per esempio con i vangeli scritti nel terzo e nel quarto secolo come per esempio il vangelo dell'infanzia di Tommaso ehm dove abbiamo vediamo per esempio un Gesù bambino che fa i rispetti alle persone attraverso i miracoli o addirittura uccide eh i suoi coetanei quindi bambini solo perché questi qua non lo riconoscono addirittura come il Messia come il figlio di Dio eccetera eccetera quelli sono già ehm vangeli molto molto fiabbeschi quindi molto favolistici quindi quelli non hanno nulla di storico ovviamente ehm però abbiamo altri vangeli come appunto per esempio il protovangelo di Giacomo il vangelo di Filippo il vangelo di Tommaso il vangelo di Pietro che hanno una loro valenza storica molto interessante ehm anche solo per ricostruire un pochino di impianto ehm del primo cristianesimo e non solo ehm purtroppo abbiamo anche vangeli che sono persi nel corso del tempo come per esempio il vangelo degli ebrei il vangelo degli ebioniti il vangelo degli egiziani il vangelo dei nazareni che ehm forse potevano raccontarci una storia differente e più vicina forse ai fatti reali basti pensare per esempio a quello che gli ebioniti pensavano pensavano di Gesù cioè quello di essere un semplice essere umano che non è nato nessuna vergine che consideravano guarda caso apostata cioè quindi una persona che va contro eh il credo l'apostolo Paolo in quel caso il credo giudeo ehm quindi è molto interessante la scelta la scelta la scelta fu semplicemente puramente convenzionale e di convenienza anche perché comunque ehm basti pensare per esempio che i vangeli così come li conoscevano oggi quindi anche quindi quello di Pietro Filippo Tommaso eccetera eccetera fino al terzo quarto secolo erano consigliati validi da molti cristianessimi anche perché in questo caso non bisogna considerare il cristianessimo singolo così come noi lo conosciamo perché nei primi tre quattro secoli erano tanti cristianessimi forse una cinquantina erano i cristianessimi e tutti teologicamente a livello dottrinale validissimi ne ha vinto uno perché attraverso una decisione puramente conciliare il famoso concilio di Nicea ed è scritto dalle pagine di Dan Brown diventato famoso grazie al codice da Vinci ehm ha fissato una prima dottrina e ha consigliato eretiche tutte quelle dottrine contrarie a ciò che era uscito da quella votazione conciliare tanto per fare un esempio per esempio il cosiddetto cristianessimo ariano o arianessimo era un cristianessimo che a livello politico e quindi di concordanza politica e non solo anche di potere era alla pari era alla pari con i cattolici quindi con i cristiani universali cioè i cattolici invece non chiamare così perché non ha avuto perché non è passata la linea del del dell'arianessimo nel libro dell'autet decisione dei concili ecumenici trovate molte cose interessanti su questo non è passata dall'arianessimo perché semplicemente non aveva l'appoggio dei cristiani di Alessandria i cristiani di Alessandria quindi per esempio parliamo di Atanasio di Cirillo eccetera eccetera avevano non 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 sopportavano diciamo così i cristianariani consideravano le loro dottrine deviate ma oltre a questo diciamo non c'era un appoggio politico vero e proprio se avessero avuto l'appoggio politico e molti autori dicono questo del cristianesimo Alessandrino a quest'ora magari avremmo avuto un cristianesimo ariano e non cattolico quindi anche in questo caso le verità di fede vengono decise attraverso una semplice azzata di mano come in questo caso decisioni puramente conciliari quindi anche in questo caso andiamo con i piedi di piombo eh gli angioletti sì allora Adriano Marinucci angeli fatti diventare asessuati solo nel quarto secolo proprio per nascondere la vera natura malachim biblici molto spermatici senza offesa no ma non è un'offesa è veramente così sì gli angeli sono infatti diventare asessuati dal quarto anche dal quinto secolo quindi con la nascita di un cristianesimo molto più diciamo che sì molto che assecondava molto di più la purità sessuale quindi la purezza sessuale e che quindi vedeva nell'ascetismo nell'ascetismo quella via di salvezza quindi angeli assessuati e angeli con le alucce quindi angeli con le ali anche per avvicinarsi molto alle alle raffigurazioni delle divinità e delle divinità anche intermedie della cultura ellenistica quindi per non traumatizzare anche troppo il popo dal passaggio dalla cultura puramente latina e ellenistica a quella invece ovviamente per poi per imposizione cristiana massimo conti scrive fino a pochi anni fa in sardegna i maschi di una famiglia non volevano che le donne si tagliavano i capelli tradizioni antichissime ma guarda qui al sud per esempio ancora oggi le anziane vanno in chiesa con il capo coperto cioè questo velo che nasconde i loro capelli si rifa anche a questo il velo islamico si rifa a quello che abbiamo detto prima proprio questa misura preventiva nei confronti di questi esseri divini diciamo così vediamo se ci sono altri commenti allora se ci sono altre domande io aspetto altri due minuti perché sono già le dieci e mezza avevo detto un'oretta e mezza però io se volete rimango ancora se ci sono altre domande altrimenti altrimenti concludo ditemi voi se continuare o meno Maria Coco conferma brava quindi anche in Sicilia così come in Calabria le donne o comunque le anziane si verranno ancora il capo quando vanno in chiesa allora ditemi voi se continuare o meno eh ah si altre due ore eh ok Maria se mi fai domande per altre due ore ci sto volentieri anche qui ecco qui Luigi conferma pure che sempre al sud ok allora nel frattempo in attesa che aspetto eventuali vostre domande un attimino ok eccomi qua allora io vi invito ad acquistare dato che si trova in tutte le edicole ecco qui il nuovo numero il nuovo numero di Era Magazine il numero 10 eh quindi c'è sia un mio vasto articolo un dossier di 15 pagine sulla questione della costruzione della divinità di Gesù questo eh articolo che trovate su Era Magazine è soltanto l'inizio di un lavoro che sto portando ovviamente avanti che poi si lo troverà nel mio terzo libro quindi stasera ho dato molte indicazioni sul mio nuovo lavoro e quindi non non potete essere scontenti ecco eh però nelle prossime settimane darò ancora più dettagli perché diciamo così ci saranno delle bombe belle grosse in merito e c'è anche un un interessante rubrica di Giulio Perrotta eh esperto in criminologia psicologia insomma anche esoterica molto interessante molto molto bello anche ha scritto anche un libro sul linguaggio verbale non verbale quello che gli altri non dicono che vi invito ad acquistare perché è veramente un bel libro e e poi c'è anche un articolo su eh di Andrei Lenardo proprio sulla cultura sulla cultura egizia anche quello che vi invito a leggere perché è molto interessante eh ed ringrazio anche pubblicamente Enrico Baccarini per aver pubblicato anche questo mio dossier per sulla costruzione del Gesù storico concepito come semidio della cristianesimo antico utilizzando quindi un termine ovviamente caro e padre della chiesa non mio eh per aver pubblicato insomma questo mio lungo articolo su su era magazine che trovate comunque in tutte le edicole da oggi ok allora Piero mi chiede mi fa la domanda perché Eusebio di Cesarea pone la passione di Gesù nel 18 dopo Cristo e qui c'è una è una questione è una questione veramente veramente spinosa perché bisogna esattamente capire la datazione che ne fa Eusebio di Cesarea perché mi devi citare esattamente il passo Piero perché perché conoscevo questa cosa perché eh avevo letto in meito determinate cose della passione di Gesù ma ripeto devi citarmi esattamente il passo nel frattempo io leggo la domanda di Enrico Ballerini eh Apollo, Mitra, eccetera influirono solo sul Gesù Paolino o anche sulla comunità gerosolimitana no 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 solo sul Gesù Paolino la comunità gerosolimitana non voleva avere niente a che fare con le dottrine di Paolo ma assolutamente no ma lo capiamo dalle lettere di Paolo non solo capiamo dalle lettere di Paolo lo capiamo poi da quello che i giudei cristiani pensavano di Paolo i giudei cristiani non hanno appoggiato nessuna dottrina paolina addirittura addirittura non hanno appoggiato in gran parte di loro la nascita virginale tanto per dirne una quindi per loro la cultura ellenistica era qualcosa di completamente strano e quindi questo fa capire e ci appoggiamo a quello che abbiamo detto prima di Danielu che magari la comunità gesuana si appoggeva molto a quegli ebrei tradizionalisti integralisti che si rifacevano magari al movimento zelota allora se 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 mi Informano che stasera c'era anche una diretta su Eterna Verità con Massimo Barbetta e Andrea Di Lenardo, quindi se siete così gentili di aver seguito me al posto loro vi ringrazio, ma appena terminate la diretta andate subito su Eterna Verità a seguire Massimo Barbetta perché sicuramente starà dicendo qualcosa di molto molto interessante, i suoi studi sono estremamente interessanti, quelli sull'antico Egitto. Quindi io vi ringrazio, speriamo di poterci sentire presto, seguite sempre la mia pagina perché già da domani ci saranno anche novità interessanti, anche riferimento all'articolo di Eterna Magazine, ma nelle prossime settimane comunque darò nuove notizie anche sul mio nuovo lavoro, quindi mi raccomando state sempre collegati. Quindi vi ringrazio ancora, grazie per la pazienza di questa oretta e mezza bella cicciosa e quindi ci sentiamo la prossima volta. Grazie a tutti e buona serata.